Si intitola Dolce Quiz ed è il nuovo programma di Alessandro Greco, storico conduttore che condusse anni fa Furore, se ben vi ricordate, proprio su Rai 2 e torna proprio su Rai 2 a capo di questo nuovo format Dolce Quiz, un format tutto voroso che vede sfidarsi due VIP proprio con l'utilizzo di ricette dolciarie tipiche come per esempio i torti, i ciambelloni, i biscotti dolci, insomma, ricette tipicamente dolci o dolciastre che ti si voglia. Alessandro Greco, storico conduttore TV della Rai, lo condurrà al suo epilogo sabato 20 novembre tra i 5 giorni di tempo a mezzogiorno sempre su Rai 2, la rete che lo ha incolonato già anni fa, molti anni fa, negli anni 90, quando condusse Furore, se ben vi ricordate, infatti Furore era una trasmissione di tipo musicale, sempre in compagnia di Ernst Graham e dell'amata della moglie, Alessandra, ossia Frau Kram. Bene, complimenti dunque per questa nuova avventura di tipo televisivo di stampo prettamente dolciario al grande Alessandro Greco, storico conduttore di Rai, il video termina qua, tanti auguri di buon lavoro a lui e di buona vita, iscrivetevi al canale, narratore italiano, commentatevi, al prossimo video. Grazie per la visione! Grazie!